Inquietante episodio all'alba di oggi a Casarano, dove gnoti hanno esploso cinque colpi di fucile contro l'abitazione di una coppia di fratelli del posto, Giovanni e Vito Memmi. L'abitazione sorge nella centralissima via Vittorio Emanuele II, ma pare che non ci siano testimoni dell'accaduto. Fortunatamente i proiettili non hanno raggiunto nessuno all'interno della casa, ma hanno comunque infranto i vetri di una finestra e danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione. Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri della compagnia di Casarano insieme agli uomini della scientifica, subito dopo erse stati allertati dai malcapitati. Chiara la matrice intimidatoria del gesto, sul quale sono state avviate le indagini di rito, per tentare di far luce sulle cause che hanno portato ad un simile episodio che poteva trasformarsi in tragedia se solo i colpi di arma da fuoco avessero colpito qualcuno. Secondo una prima ricostruzione, pare che gli spari siano partiti da un fucile calibro 12. Sono state inoltre acquisite dagli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, nel tentativo di trovare indizi utili alle indagini e risalire all'identità di chi ha messo a segno il gesto. Tra l'altro, alcuni anni fa, proprio l'abitazione dei fratelli Memmi era già stata oggetto di un'altra grave minaccia. Un ordigno rudimentare era stato piazzato e fatto esplodere davanti alla porta d'ingresso della struttura, provocando ingenti danni.